Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento, al primo appuntamento con informazione di Fano TV, oggi è mercoledì 9 agosto e come sempre per prima cosa andiamo a vedere chi festeggiamo oggi. Oggi festeggiamo Santa Maria degli Angeli, allora Santa Maria degli Angeli nacque il 12 ottobre 1891, è una delle figure più straordinarie, affascinanti e complessi dello scorso secolo, fu tra le pochissime donne del suo tempo che pote studiare e insegnare filosofia, inoltrandosi nei sentieri di una ricerca esistenziale, da sempre riservata quasi esclusivamente ai maschi e lo ha fatto con esiti felicissimi, riuscendo a imporsi accanto a uno dei grandi maestri della filosofia del Novecento, Edmund Husserl, proclamata beata nel Duomo di Colonia l'11 maggio 1987. E vediamo le previsioni del tempo. Abbiamo una situazione di tempo stabile con nubi medio-alte di passaggio che offuscheranno a tratti il soleggiamento, le temperature in lieve aumento, cosa che ci fa abbastanza piacere perché la mattina le temperature sono piuttosto basse, al di sotto della media. Nei prossimi giorni avremo sole pieno sia domani, venerdì, sabato e domenica, con temperature che arriveranno fino a 30 gradi. Il sole stamattina è sorto alle 6.04 e tramonterà alle 20.20. E naturalmente ieri purtroppo non siamo riusciti a collegarci con Edoardo Rubini dallo stabilimento da Emilia di Porto Novo, ma forse questa mattina ce la facciamo. Edoardo sei con noi? Buongiorno, buongiorno! No, vabbè, non puoi farci queste cose. Addirittura già in mare. Ma sì, questa mattina la più bella accoglienza è questa, dai. Mamma mia, ma che acqua splendida, pulitissima. Aspetta che vi faccio vedere il bellissimo sole e il mare che si bacia su questo meraviglioso verde, no? Mamma mia, Edoardo, che temperatura ha l'acqua? No, ma meravigliosa, dai. 20, 22, 25. Guarda, questa botta da nord che ha fatto ha rinfrescato un po' tutto, ma è veramente bella, molto bella, veramente bella stamattina. Edoardo, così farai invidia a chi stamattina ci sta guardando, ma poi purtroppo deve andare a lavorare, non può fare un bellissimo bagno come te. Senti, Edoardo, parliamo un po' di quello, di un articolo. È bellissimo fare questo collegamento con te che sei in acqua, direi che è fantastico. Allora, stamattina il resto del Carlino esce con un articolo molto importante sul caro vita del turismo, chiaramente. Un giorno in due al mare, dichiara, costa 139 euro. Cosa mi dici di questa cosa? Ci sono degli stabilimenti che hanno dei servizi abbastanza importanti, però diciamo che, ad esempio, guardando la nostra realtà, qui a Porto Novo ci sono dei posti dove magari delle varie fasce di clientela possono magari attingere e poter prendere più o meno, secondo le proprie esigenze, in modo che qualsiasi persona, sia chi può o chi non può permetterselo, può venire giù a Porto Novo tranquillamente e scegliere, diciamo così, la tipologia di vacanze, di giornata al mare. Perché comunque ci sono anche dei prezzi abbordabili e soprattutto vicino, diciamo così, a tutta una fascia di persone che, ecco, che più se lo possono o non se lo possono permettere, in modo tale di dare anche noi dei servizi navetti anche gratuiti. Abbiamo messo una navetta gratuita elettrica che si vende a Porto Novo. Perciò le possibilità, secondo me, di spendere più o meno ci sono. Certo, certo, certo. Posso chiederti cosa costa da te un, diciamo, un ombrellone con due lettini? Certo, certo. Noi abbiamo lettini e ombrelloni, abbiamo due lettini e ombrelloni, diciamo così, dalla seconda fila in poi, alle 35 euro, in prima fila viene 40, poi abbiamo piccolino, piccolino, però ci sono dei prezzi e dei stabilimenti che costano di più, ma anche di meno, a secondo della fila, a secondo della, diciamo così, se sono molti fini dietro, dovrebbero venire meno. Edoardo, in relazione già al rapporto, quanti residenti hai rispetto ai turisti? Ma no, diciamo che ultimamente questo periodo qui è strapieno di persone, di turisti, ma l'Anconetano non esita a scendere in degli orari più contro, nel senso adesso è benissimo scendere anche dopo le 5 e mezzo alle 6 del pomeriggio, venire dopo il tramonto a fare anche un aperitivo di spiaggia con la famiglia, adesso è una cosa, non adesso, ma da diversi anni che gli Anconetani scendono dalle 5 e mezzo in poi. Bene, benissimo, ottimo. Allora, io vorrei restare insieme a te tutta la mattina a vederti fare questo bellissimo bagno, fai invidia, però purtroppo devo procedere con la rassegna stampa di oggi. Va bene. Quindi mi ha fatto piacere che siamo riusciti a collegarci. Edoardo, noi ci vediamo chiaramente domani mattina per parlare ancora di altri argomenti. Ti troveremo sempre in acqua domani mattina o da qualche... Ma domani mattina dobbiamo fare qualcos'altro, dai, così, qualche sorpresa. Ieri mattina c'erano i gelpini qui dentro, era meraviglioso, per quello mi ha dispiattuto, vi chiedo scusa a tutti, sai? Certo, va benissimo, buona giornata, grazie. Ciao, buona giornata a voi. Arrivederci. Simpaticissimo il nostro Edoardo. Bene, invece noi iniziamo la nostra rassegna stampa. Lo lasciamo lì a fare il bagno e vediamo un attimo, parliamo subito, partiamo subito da il resto del Carlino. Vediamo la prima pagina del resto del Carlino. Allora, il resto del Carlino, paura, in casa, Loreto, la zona giorno va a fuoco, fumo ovunque, famiglia evacuata. Titolo di testa, picchiati e legati dai banditi in villa, Ferminiano rapinati da un commando, i rossi. I loro cugini erano già stati assaliti cinque anni fa, botta in testa con la pistola. Ed ancora, notturni Oliverani, il museo al buio è più bello. In fondo pagina, Fano, mancano i soldi, il ritiro finisce prima, stiamo parlando di calcio. E sempre la mia vis, mix perfetto tra baby ed esperti. In fotonotizia, il racconto di otto pesaresi trasferiti dopo l'arrivo del tifone. Gli scout in Corea, stiamo tutti bene. Ma entriamo nel vivo di quello di cui abbiamo appena parlato con il nostro Edoardo, ossia il resto del Carlino, mette in prima pagina l'estate cara. Dalla colazione al giro sulla ruota, un giorno in due al mare, 139 euro. Croissant e cappuccino, canoa, pranzo, aperitivo, cena. Hanno fatto, diciamo, un giro di quello che potrebbe essere una giornata tipo del turista. Il viaggetto panoramico, infine il gelato. Il nostro calcolo per una coppia, che nelle 12 ore non si fa mancare quasi nulla, pur senza lussi eccessivi. Questo calcolo è di un totale di 139 euro per due persone. I punti dolenti sono i forti rincari nel settore della gelateria. E il pane nella vostra città, dicono, è arrivato a 7-8 euro al chilo. In certi bagni, ad esempio da Gastone Marta, la pagaiata è compresa nella quota dell'ombrellone, ma non è sempre così. Quindi questo è un articolo molto, molto interessante da leggere, proprio sull'estate cara, di cui abbiamo appena parlato anche con Edoardo. Andiamo invece sempre a Pesaro e restiamo a Pesaro. Fiamme e paura a Loreto, il fumo invade tutto, evacuato una famiglia, l'incendio nella villetta è partito, forse per un cortocircuito dalla cucina. La disperazione della proprietaria in lacrime davanti alla propria abitazione. La porta d'ingresso non si apriva, i pompieri entrati dalla casa di un vicino. Strada chiusa in un senso per due ore. E passiamo invece alle notizie che riguardano la nostra bella città fanese. Cronaca, pestarono un diciottenne d'aspo a tutto il branco. Cinque provvedimenti per altrettanti giovani tra i 18 e i 23 anni. Il 18 giugno scorso picchiarono a sangue un coetaneo per una sigaretta. Movida finita per i cinque ragazzi che due mesi fa hanno pestato un diciottenne fanese, rompendogli il setto nasale e provocandogli altre ferite. Erano otto contro uno e l'hanno picchiato a sangue per una sicura sigaretta caduta a terra. Sono tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni. Due albanesi e tre africani già noti alle forze dell'ordine che non potranno più frequentare il Lido né altri quartieri fanesi in cui sono presenti bar, ristoranti, sale gioco e più in generale locali di pubblico intrattenimento. Un divieto valido tutti i giorni della settimana, dalle 18 fino all'ora della chiusura. Ed ancora shock in città, 60 anni in overdose, ai giardini bracci. L'uomo è stato salvato grazie all'intervento della polizia locale dopo le segnalazioni dei cittadini. Ubriaco e drogato dava fastidio ai passanti ma alla fine è stata proprio la sua sgradevole molestia salvargli la vita perché infastiditi dal comportamento di quel senza tetto alcuni fruitori del parco giochi accanto alle ex commerciali, l'altra sera se ne sono dovuti andare via non prima di aver chiamato la polizia locale per segnalare la cosa con la speranza che quel barbone fosse allontanato per sempre dall'immediata. È stata la chiamata al 118 e altrettanto celere l'intervento dei sanitari che hanno rianimato il clochard e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso di Fano proprio in stato di overdose. Sempre a Fano, Ferragosto a tutta birra. Una è per il nostro famoso brodetto al Via Sabato alla Festa tra l'area di 24 Maggi e Giardini di Biancheria Morelli ideata una bionda ad hoc per il tipico piatto fanese. Sarà un Ferragosto a tutta birra, tredicesima edizione per la birra d'Augusto promossa dall'Associazione Fortuna Dea in programma dal 12 al 16 agosto. Cinque giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento e co-cooking show che si svolgeranno proprio tra il parcheggio di Via 24 Maggio e i Giardini Biancheria e Morelli con una novità assoluta tutta fanese. Quest'anno ci sarà il brodetto birra, la birra con un'etichetta ad hoc realizzata dal birrificio Renton di Fano. Nello specifico, nelle giornate della birra d'Augusto, sarà servito un risotto al brodetto cucinato a base di brodetto birra. L'iniziativa nasce proprio dalla collaborazione di confesercenti con l'Associazione Professionale Cuochi Italiani rappresentata dal Presidente regionale, lo chef Antonio Bedini. E quindi invitiamo veramente tutti i fanesi e anche tutti i turisti presenti nella nostra città a partecipare a questa iniziativa veramente particolare che unisce un po' l'enogastronomia naturalmente anche alla festa in sé, poi con la birra, concerti e la musica sono sempre benvenuti. Ed ancora Volley Solidale con Checco nel cuore Fano si è svolto anche quest'anno ai bagni Maurizio di Sassoni al memorial di Beach Volley intitolato Gli Amici di Checco giunto alla dodicesima edizione e dedicato alla figura di Francesco Tombari che è stato un grande appassionato del volley fanese. Ed andiamo in Val Cesano, ci spostiamo in prima pagina Anziano picchiato in casa ha un volto l'aggressore San Lorenzo in campo, trentenne, si presenta alla porta e Malmena, un settantunenni, carabiriere di Fano adesso indagano sul movente. Sempre per quanto riguarda gli eventi, stelle cadenti tre giorni al Valì con le Perseidi Al Museo del Valì arrivano le tre serate imperdibili dedicate alle Perseidi, lo sciame meteorico che il 10, 11 e 12 agosto ci fa stare con il naso all'insù ad esprimere i nostri desideri. A Marotta, nell'edificio conteso i bimbi dell'asilo nido via ai lavori nell'ex scuola di via chiesa la cui proprietà è stata in bilico confano dopo l'unificazione. Ci spostiamo ad Urbino ad Urbino, festa del Duca sarà un'edizione indimenticabile un programma ricchissimo anche culturalmente si colora d'antico con il ritorno dell'evento più partecipe dell'anno la festa del Duca che quest'anno giunge all'edizione numero 42 da venerdì a lunedì quattro giorni densissimi di iniziative attrazioni di ogni tipo mercati, gastronomia e intrattenimento il tutto sarà ingresso gratuito e Sgarbi commenta verrò per godermi lo spettacolo. Passiamo al Corriere Adriatico e vediamo il Corriere Adriatico invece che cosa ci propone Corriere Adriatico prima pagina crolla tutto rischio amianto il consigliere Valdinocci lancia l'allarme per lo stato dei capannoni in abbandono dietro l'Ipercop torna nuovamente all'asta il comparto ex copredil ma la cifra non scende 7 milioni per 2 lotti fotonotizia alfanese Ciacci quei morti sono miei fratelli l'ultimo minatore di Marcinelle dentro potrete leggere tutta la sua storia ed ancora brevi di cronaca Pesaro il papà che ha colpito il 13enne al cinema ho reagito mi dispiace Fano pestaggio a Lido scatta d'aspo movida vietata per 5 ragazzi lo ritroviamo come avevamo già visto l'articolo sul resto del Carlino il clima che cambia un prof l'inviato dal governo ed ancora in fondo pagina banditi rompono in villa due imprenditori rapinati una mattinata di terrore per i fratelli rossi prima la pistola puntata alla testa e poi le botte notizia di cui ne abbiamo parlato molto una reazione diciamo un po' esagerata di un padre al cinema c'è Vingun contro me mio figlio ho reagito oggi il padre dichiara sono molto dispiaciuto parla al papà denunciato per le lesioni dopo che al cinema ha colpito uno dei ragazzi molesti sono dispiaciuto ho reagito all'ennesima cicca da masticare che mi è stata tirata addosso durante l'intervallo mi sono recato due volte all'ingresso cercando il personale di sicurezza del cinema per avvisarli dell'accaduto ma erano presenti solo due ragazze addette al bar è così che si giustifica il papà che ha diciamo malmenato questo ragazzino e andiamo invece alle pagine di Fano e ritroviamo l'articolo che abbiamo già letto pestaggio d'aspo ai 5 giovani in movida vietata per 18 mesi accusati dall'aggressione a Lido dovranno stare lontano come abbiamo già visto dai parcheggi ed ancora clochard salvato da overdosi di droga la polizia locale l'ha trovato nei giardini soccorso dal 118 stessa notizia che abbiamo trovato sul resto del Carlino ed invece andiamo alla battaglia Sassonia sud abbandonata solo degrado il nuovo comitato per il presidente Donigaglia presenta le sue rivendicazioni è nato il comitato Nuova Sassonia sud portatore dell'eredità del comitato Le Brecce espressione con il suo presidente Flavio Donigaglia delle esigenze dei bisogni dell'area compresa tra Viale Ruggeri e Via Aureliano ovvero nella zona tra Viale Ruggeri Baia Metauro e la foce del fiume questo viene fatto con l'intento di rendersi partecipe delle scelte amministrative e sociali che riguardano questa parte della realtà cittadina ci spostiamo restiamo no restiamo ancora su Fano scusate l'ultimo minatore di Marcinelli laggiù sono morti i miei fratelli questa è una storia molto commovente i ricordi di Urbano Ciaccio 88 anni originario di Cartoceto l'8 agosto 1956 evitò la strage per un turno saltato è il faunese proprio Urbano Ciaccio classe 1935 è l'ultimo minatore in vita ricordiamo che la strage di Marcinelli è stata l'8 agosto del 1956 esattamente 67 anni fa per un'esplosione di polvere di carbone che provocò un disastroso incendio di 262 minatori che morirono nella miniera di Bois du Cassier gli italiani erano 136 di cui 12 vittime furono proprio marchigiane tra i morti ci furono 95 belgi 8 polacchi 6 greci 5 tedeschi 3 algerini 2 francesi 3 ungheresi un inglese un olandese un russo e un ucraino è una storia molto bella da leggere consigliata ci spostiamo in Valmetauro corte alta quasi mezzo milione per il cortile del palazzo ducale il progetto è approvato dalla giunta per il restauro che ammonta 464 mila euro ed ancora sempre la pagina di Valmetauro canale ostruito si allagano case e campi la Lega sostiene l'istanza dei residenti di Metauriglia per la manutenzione ci spostiamo a Durbino villa assaltata da 5 banditi rapinati due fratelli imprenditore il colpo a Fermignano pistola alla testa di Alberto Rossi 32 anni bastonato il fratello Vittorio di 41 sono arrivati silenziosi con i passamontagna calati sul volto e le armi da fuoco in pugno hanno intimidito l'industriale che era rimasto solo in casa puntandogli una pistola alla fronte e hanno bastonato l'altro il fratello rincasato in modo inatteso una mattinata di terrore è stata vissuta ieri a Fermignano dagli imprenditori Alberto 32 anni e Vittorio Rossi 41 anni con proprietari dell'azienda familiare di Zincatura Fratelli Rossi fu al derige vittime di una rapina a mano armata nella loro villa che si trova a qualche centinaio di metri dalla fabbrica ed ancora sempre su questa notizia il sindaco dichiara violenza inaudita e anche strana Fiduzzi ha subito espresso solidarietà alle vittime siamo sgomenti valcesano identificato l'aggressore un regolamento di conti stretto riservo dei carabinieri sul movente il pensionato è stato dimesso dall'ospedale San Lorenzo in campo cioè stretto riservo da parte degli inquidenti sul grave fatto accaduto nel centro laurentino domenica sera quando un giovane ha aggredito un pensionato nella sua abitazione il giovane poco dopo le 20 ha suonato il campanello appena gli è stata aperta la porta ha iniziato a prendere a pugni il pensionato che si trovava a casa con la convivente un'aggressione durata qualche minuto rapida violenta a volto scoperto che ha provocato diverse ferite all'uomo in particolare al volto e quindi c'è stata la fuga il giovane adesso è perseguibile per lesioni personali su querela del ferito che gli aveva aperto la porta ed ancora una notizia ed un consiglio anche per gli anni 80 domani ci sarà Spagna e nel weekend spazio ad acustica festival dopo il successo del Summer Paradise Festival alla Molo Arena di Marotta si tuffa negli anni 80 sino a venerdì con l'evento Mar 80 un evento che oggi è giunto alla terza edizione ad organizzarlo la Proloco con la collaborazione dell'amministrazione comunale ricchissimo e variegato sarà il programma intere serate molto intensi per immergersi tra ricordi atmosfere e le musiche magiche degli anni 80 con i grandi artisti che hanno fatto ballare migliori milioni di persone con il loro successo durante le scintillanti serate estive stasera di scena il Gallo Team presenta la conduttrice radiofonica Tamara Taylor domani invece sarà la volta della potente e coinvolgente voce di Call Me Easy Lady e Dov'è l'amore salirà infatti sul palco per un concerto tutto da ballare Ivana Spagna ci saranno insieme di Ivana Spagna anche Johnson Righiera ricordiamo che erano due ma oggi Righiera ne è rimasto solo uno per concludere quindi con un Evolution 80 con questo io concludo la nostra rassegna stampa abbiamo parlato di tutto abbiamo visto sia il resto del Carlino che il Corriere Adriatico io naturalmente vi rimando a seguire i programmi di Fano di TV l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20.30 e come sempre vi auguro una buonissima giornata grazie grazie